E adesso... che facciamo? BOOGIE DIGGLI AMICI! Cosa stai facendo? Guardate nella mia direzione e scommetto che vi farò sorridere anch'io! D'accordo, basta! Non succederà mai! Odio essere l'unica dei Titans che non sa fare il divertente! Oh, dai, non abbatterti Stella! Neanche Robin è divertente! Ehi, certo che lo sono! Mi dispiace, non lo sei! Tu fai battute da nonnetto! Robin non ha mai fatto delle battute su suo nonno! Le battute da nonni non parlano di nonni, ma sono quelle che raccolterebbe solo un vecchietto! E non fanno mai, mai ridere chi le ascolta! Io non faccio battute da nonno! Davvero? La vuoi ben cotta, la bistecca? No, ben cruda! BOO! Io sono affamato! Piacere di conoscerti affamato! Io sono Robin! BOO! Ehi, Bibi! Sai perché l'opterodattilo è diventato terodattilo? Perché al bagno ha fatto la B! BOO! 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 Ti prego, basta! Ti assicuro che ho capito l'idea perfettamente adesso! Perché ha fatto la B! Sapete, Titans, dopo aver salvato il mondo, credo che sia il caso di festeggiare! Sì! Mettiamo in moto la festa! Che bello! Ah, uh, uh! Cibo a volontà, balli scatenati e ogni genere di intrattenimento vogliate! Un DJ, una rock band, un mago, basta dirlo! Un clown! Cosa? Abbiamo detto... Un clown! Scusate, che cos'è un clown? Questo è un clown, Stella! Cosa fanno? Cosa fanno? Beh, fanno divertire i bambini? Come si può avvicinare la natura? Odia un bambino! No, Stella! I clown sono una forza, credimi! Sì, amiamo i clown fin da bambini! Troppo forti! E poi con quella loro musichetta... Quando la sento so che sto per divertirmi! Oh, che è il furgoncino dei gelati! E quindi sì, i clown! Non ne vediamo uno da anni! Già, i clown vanno bene per i bambini piccoli! Siete troppo vecchi per i clown! Ah sì? Com'è la sesta stagione di Pitty Pitty Pegasus? Oh, mamma, sì! Allora, Fagiolina e Scintilla devono salvare Regia Libine, che è rimasto imprigionato dentro la glassa di una turda e quel punto... È completamente diverso. Ah, quindi dovrò davvero ingaggiare un clown? No, 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 no! No, no, ti prego, ti sopplico a non farlo! Ti prego, ti scongiuro! Un clown! Vada per il clown. Accipicchia! Va tutto bene, Robin? Non la trovo! Non la trovo! Cosa non trovi? La maschera! E allora? Tu non puoi capire! Senza la maschera tutti conosceranno il mio volto! E qual è il problema? Anche se hai la maschera, il tuo viso è scoperto! Non potete vedermi! Nessuno può veder... Devo tornare alla torre... Time's got it! We wait until animalists evolve into humans. Then they will... Come a time machine! And... Come back here to rescue us! Gabbagabba! Glad you made it! We need your help getting out of here! That's it! Now, hit that release button! Gabba? No, no! The other button! Gabba? Yes! That's the one! Gaga? Yeah, yeah, yeah! Gabba, Gabba? Yeah, yeah! Zaga, zaga, zaga! Now hit it! No, you dumb caveman! E l'allarme crimini? Eeeh! Oh no! Il giardino è sotto attacco! Titans, go! Un attimo! Solo per una volta vorrei dire io, Titans, go! Forza, sbrigatevi! Ci prendiamo un po' di pizza mentre andiamo? Non ce n'è il tempo! Dobbiamo concentrarci sulla missione! Questo ascensore è troppo affollato! Ti dispiace se ti sto un po' più vicino, Robin? Ma che dici, Stella? Siamo circondati! Cyborg, spazza via il fianco sinistro! Sui, signore! Stella, tu provvedi a copertura e fuoco! Va bene, attraente leader lupo solitario! Go, go, go! Buia! Zaa! Zaa! Hazarat mitrionzinto! Sfazziamo un po' di rumore! Pus! Suav! Suav! pensar! Suav! Funciona! Suav! Zaa! Ss cric! Se作! Brauh! ce l'abbiamo fatta titans sul serio bibi hai dato ai pugni il suono delle puzzette è molto meglio del suono che facevano prima no? divertente se i pugni fanno il rumore delle puzzette le puzzette come fanno? titans andiamo ad ascoltare i suoni del mondo che abbiamo creato buia 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 non mi piace questo si molto antipatico non resta che una possibilità affrontare un pericoloso viaggio e costringere la bisbigliatrice a ridarci i suoni sei stato tu si e posso risolverlo con questo è una chiappa pidocchi oh ti prego dacci il coso che acchiappa i pidocchi molto volentieri se ammettete che i maschi sono meglio delle femmine no mai allora tenetevi i pidocchi lo sai ci basta toccarti per trasmettere anche a te i pidocchi ah pidocchi ma stella sta per toccarmi ah pidocchi o l'inizio di una splendida relazione ah pidocchi scappiamo è una vasca di squali questa in mezzo al salotto e gli squali come hai fatto ad averli? non è pericoloso ma che ti sta succedendo? beh le poupe amano quelli che sanno comunicare con i pesci non mi ero resa conto che amassi tanto la vita marina oh sì io i pesci siamo così cioè io ho questo legame con loro capite? visto ci stiamo facendo una bella chiacchiera ah sto bene pensi che dovremmo aiutarlo? no sono un'altra malintesa no che si aiuti con le parole sto bene la verità è che non dedicherò mai un momento del mio prezioso tempo per poter imparare qualcosa di stupido come fischiare mai! magari posso insegnarti io a fischiare Robin ci sto questa condizione è perfetta per fischiare nessuna distrazione, tanta aria adesso guarda oh che bella che capelli che occhi che modo affascinante di descrivere il fischio hai notato anche le mie labbra cornose adesso tocca a te devi controllare il flusso d'aria premendo bene le labbra l'una contro l'altra in questo modo no così si puoi fischiare Robin io credo in te ma certo lascia soppiare un vento forte dalla bocca Robin fantastico primo sforzo beh sei brava a insegnare non cinque Robin buongiorno oh no quello è il suo lato folle devi essere perfetto devi essere perfetto devi essere perfetto oh no perfezionista è il lato peggiore perfetto 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 so che sei stato tu di la verità ora parla parla questo deve rappresentare il suo lato ossessivo non sono ossessivo sono solo concentrato sui dettagli è questo a fare di me un grande detective parla ce l'hanno tutti con me tutti con me andate via andate via 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 riconoscere le tue paranoie dovunque Titans go go perché nessuno di voi si muove ascoltatemi e il maniaco del controllo fine sì conosco bene tutti e cinque dobbiamo rimettere i Robin dentro il prisma questo mai non riuscirete mai vai a ricombinarci aiutateci Silky siete la nostra sola speranza ah ah no Oh! Obedee! Grazie a tutti.